Parcheggi insufficienti, macchine abbandonate ovunque, i residenti di Passo Scuro, soprattutto nel fine settimana, vivono lo stesso terribile déjà vu. Il nostro inviato, Tommaso Valerio Ghiglione. Residenti intrappolati nelle loro case per un intero fine settimana, succede a Passo Scuro. Ogni weekend lo stesso film, afferma il portavoce dell'associazione Crescere Insieme, Roberto Severini. È un po' una caratteristica di fregene e focene che soffrono dannatamente questo problema, con l'unica differenza che di Passo Scuro non se ne parla. Parcheggi insufficienti e macchine abbandonate ovunque alla bene e meglio. Angoli delle strade, marciapiedi, anche le aree verdi si trasformano in parcheggi improvvisati. E quando proprio tutto è occupato, si parcheggia davanti ai cancelli delle abitazioni, anche quelle che hanno in bella vista il divieto di sosta, con il risultato che i residenti rimangono intrappolati in casa senza poter uscire, afferma Severini. Spesso ci sono discussioni, litigi, che sfociano ogni tanto il risse. Un vero caos. C'è poi il problema della sicurezza. Le strade sono strette, sottolinea Emilio e Rio, dell'associazione Crescere Insieme. Le autovetture si parcheggiano su entrambi i lati. Se ci fosse un incendio, servisse l'intervento di un'autoambulanza, sarebbe impossibile arrivare in tempo. I soccorsi rimarrebbero bloccati nelle strade. Un vero e proprio incubo. I vigili urbani fanno quello che possono, le multe non funzionano, ci vorrebbero maggiori controlli, più presenza sul territorio e magari mettere in bilancio una cifra per trasformare le tante aree verde e abbandonate in parcheggi veri e propri. La situazione non è più tollerabile. Bisogna realizzare nuovi parcheggi e regolamentare quelli spontanei che sorgono. Solo così si può risolvere il problema, conclude il comunicato, di Crescere Insieme.